Pronti a partire? Figlio dei stradei? Pronto? Partito! Ma non pensare che sia così generoso, Claudio ha un ego forte per cui non potrebbe vincere nessuno, nemmeno il figlio. E' una sfida interessante, sono rischiando il grosso tutti e due, con stili di vita diversi, in realtà attuali. La funzione è perché Claudio sta uscendo dal percorso e potremmo eliminarlo con grande piacere. Tanto il figlio sta...